Si conclude la ricche estate di commedie dialettali all'Arena BCC di Tre Ponti di Fano. A Calarelsipario, giovedì 5 settembre alle 21.15, sarà la compagnia Saranno Fanosi con Non ti pago, commedia liberamente tratta dall'omonima pièce di Edoardo De Filippo. Questa è una storia bella, una bella commedia che nasce da Edoardo De Filippo. Noi l'abbiamo ripresa, manipolata, ma stricciata, come si dice a Fano. Abbiamo un pochino sconvolto e dovrebbe essere una cosa abbastanza divertente e simpatica. Siamo 7-8 interpreti, abbiamo qui la nuovissima e giovanissima, l'ultima entrata nella compagnia che noi recitiamo ormai da 6-7 anni, siamo sul palco, quindi siamo tutti veterani, eccetto Agnese che è l'ultima entrata di quest'anno, giovanissima, 17 anni, ha il suo debutto e sarà una parte simpaticissima la sua.